Buongiorno a tutti, un caro saluto da Francesco Samani, eccoci con questa serie di video volti a risolvere, a suggerire, a dare delle proposte per risolvere le prove concursuali del concorso STEMA 028. Abbiamo risolto i primi 11 quesiti e adesso continuiamo, insomma, in ordine sempre crescente. Vi ricordo, prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto e vi piace, insomma, poter rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Allora, leggiamo. Due dei cosiddetti gas serra che vengono considerati fra i maggiori responsabili del riscaldamento globale in corso sono... Ok, sicuramente già avete capito che il metano e l'anidride carbonica sono i maggiori responsabili del riscaldamento globale. Infatti l'effetto serra è un fenomeno che causa il riscaldamento globale del nostro pianeta dovuto alla presenza di gas presenti nell'atmosfera terrestre. Quindi, in particolar modo, questi gas in ordine sono l'anidride carbonica, il metano, il gas metano e il vapore acqueo anche. Che non viene menzionato nelle risposte ABC, quindi non poteva esserci dubbio che la risposta D fosse la corretta. Grazie all'effetto serra naturale, il clima della Terra è ospitale, quindi l'effetto serra non è del tutto negativo. Infatti abbiamo una temperatura media che si attesta tra i 15 e i 17 gradi. Si è calcolato che senza effetto serra, se dovesse capitarvi la domanda, nelle medesime condizioni al contorno, situazioni ambientali, senza effetto serra quale temperatura media sarebbe presente nel nostro pianeta sarebbe di meno 15 gradi. Perché fare queste precisazioni? Perché ovviamente io non mi aspetto che avrete delle domande copia identiche a quelle che già sono state fatte, ma che magari gireranno intorno agli stessi argomenti. Ovviamente, quindi una temperatura, badate bene, è molto inferiore alla temperatura di congelamento dell'acqua. Quindi spieghiamo cosa è più precisamente questo effetto serra. Quindi i gas presenti nell'atmosfera terrestre filtrano le radiazioni solari. Ad esempio, più o meno le radiazioni solari producono una prutenza di 343 watt al metro quadro, ne filtrano e ne passano solo 240. Altre 100 vengono rimandate via. E quindi ostacolano che cosa succede una volta che le radiazioni solari arrivano sulla superficie terrestre. I raggi solari, quindi, vengono in parte all'inizio riflessi dal gas serra, poi arrivano sulla terra e in parte vengono riflessi verso l'alto dalla crosta terrestre, eccolo qui, e vengono quindi riemessi verso l'alto sotto forma di raggi infrarossi, quindi di calore, eccolo qua, che sale. Questo calore, quando sale, quindi quando viene da radiazione, viene trasformato in raggi infrarossi, va ad incidere sui gas serra e una buona parte viene rifratta verso la superficie terrestre. E quindi questi gas che stiamo rappresentando col colore arancione rimbalzano nuovamente verso il basso grazie alla presenza, quindi, dei gas serra presenti in atmosfera. In questo modo il calore del pianeta non si disperde del tutto nello spazio e la temperatura media della Terra risulta essere più alta. Allora, domanda 15, misurando gli angoli radianti, poi daremo eventualmente una definizione di radiante, qual è il minimo intero positivo n per il quale la funzione sen x è negativa per ogni x nell'intervallo compreso, strettamente, tra n e n più 1. Quindi, ripeto, il radiante è l'angolo al centro che su una circonferenza intercetta un arco di lunghezza uguale a quella del raggio. Allora, proviamo a disegnarlo, mi avvalgo magari di qualche figura all'interno, insomma, del software. Allora, il radiante, per l'appunto, è questo è l'angolo, bisogna trovare quell'arco del cerchio della stessa lunghezza del raggio. Quindi, quest'arco qui, chiamiamolo AB arco, equivale al raggio R. Allora, si ottiene che un radiante è quest'angolo qui. Due radianti, adesso procedo in mano, sono formati da quest'angolo qui. Basta prendere il raggio, proiettarlo qui, unire i due punti, quest'angolo è di 90 gradi, e si ottiene l'arco. Quindi, proseguendo la stessa maniera, si ottengono due radianti, e proseguendo per la stessa maniera, si ottengono tre radianti. In particolare, pi greco radianti, quindi 3,14 pi greco rad, equivale a un angolo di 180 gradi. Da qui poi potete fare la proporzione per trovare l'analogo in gradi. Quindi siamo arrivati, se inserisco un piano cartesiano, abbiamo percorso tutto il primo quadrante, stiamo arrivando alla fine del secondo, e ancora la nostra funzione seno è positiva, perché nella circonferenza coniometrica, se andiamo a proiettare questo punto sull'asse delle ordinate, vediamo che è ancora positiva. Allora, poi arriviamo finalmente a 4 radianti, e tra 4 radianti e 5 radianti, la funzione seno è negativa, è sempre negativa. Quindi, sen x deve essere, cioè è negativa, quindi sicuramente ha un valore compreso tra 0 e meno 1, quando x è uguale, è compreso, insomma, tra 4 radianti e 5 radianti, compreso strettamente tra 4 e 5 in radianti. Benissimo, vatemi precisare qualcosa, altrimenti non mi sento a posto con la coscienza. inserisci, fatemi inserire, allora, l'asse delle x, mettiamolo in nero. Ok, ho bisogno del mio mouse per spostarlo. Inseriamo anche l'asse delle y. Noi sappiamo che il seno di un angolo è negativo tra 180 e 360 gradi, quindi tra pi greco e 2 pi greco. sappiamo che pi greco è 3,14, che 2 pi greco è 6,28, questo è anche un modo più rapido per ottenere la risposta, e quindi diciamo che a 3 ancora il valore del seno è positivo, positivo, a 4 il valore del seno comincia a essere negativo, a 5 continua a essere negativo, a 6 continua a essere negativo, a 6,28, quindi a 2 pi greco, torna ad essere 0. Quindi sicuramente tra 4 e 5, tra 5 e 6, tra 6 e 6, 28 è negativo. Però ci chiedeva un numero intero e il minore, quindi sicuramente tra 4 e 5. Anche tra 5 e 6 il seno di un angolo espesso e radianti tra 5 e 6 sarebbe stato negativo, però non sarebbe stato il minore. Quindi siccome la domanda vi chiedeva, andiamola a rivedere, vi chiedeva il minimo intero positivo n per il quale la funzione seno negativa per ogni x dell'intervallo, compreso se estremamente tra n e n più 1, ovviamente la risposta non poteva che essere tra 4 e 5, quindi tra n uguale 4 e n più 1. Ovviamente se avessi chiesto tra n e n più 2, anche 4 sarebbe stata corretta come risposta, sarebbe stata una risposta corretta parimenti, perché abbiamo spiegato che comunque tra 4 e 6 radianti ovviamente il seno dell'angolo restituisce un numero negativo. Seno f e g funzioni reali di una variabile reali da definire da f di x uguale 3x quadro e g di x uguale 2x più 2. Quali delle seguenti espressioni individua la funzione composta? Io avrei usato un f grande di x uguale f di g di x, va bene? Allora a questo punto basta andare a sostituire al posto del termine x quadro la funzione g di x, quindi 3 al posto della nostra variabile x andremo a sostituire il valore di g di x, quindi 2x più 2 al quadrato, quindi è un quadrato di un binomio, 2x per 2x, 4x quadro, 2 per 2, 4, il doppio prodotto del primo per il secondo termine è 8x, andiamo a moltiplicare tutto per 3 e viene 12x quadro più 24x più 12, quindi la risposta sicuramente esatta è la seconda. va bene, qui insomma, ecco, forse avrei usato le parentesi quadre, però spesso si usano, soprattutto in programmazione informatica, si usano tante tonde e non si vanno a usare, perché magari si ha bisogno di usare tantissime parentesi se non bastano le tonde quadre graffe, e quindi diciamo che io in un contesto di scuola secondaria di primo grado avrei usato sicuramente la parentesi quadra, ma queste sono opinioni mie, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, allora, stiamo in diretta, arrivo alla, voglio finire, così arriviamo a un numero pari, alla 19 o 20, così per la prossima volta cerchiamo di continuare e magari arriviamo a metà spiegazione, approfondimento anche di quello che è stata la vostra prova, perché ovviamente io sono qui bello rilassato ad approfondire, a fare valutazioni senza l'ansia, insomma, che il tempo mi turbi più di tanto, anche perché ritengo, ma come molti di voi poi apprezzano, ritengo sicuramente utile fare poi degli approfondimenti e girare intorno all'argomento per andarlo a approfondire in maniera da poter essere più completi e da poter essere anche capaci in un futuro di risolvere situazioni al contorno. Per l'appunto sto saltando le domande di inglese e quelle di chimica, perché non sono in grado proprio di affrontarle e quindi siamo arrivati alla 21. Si getta una moneta in mezzo ad una piscina, ovviamente per inglese farò poi dei video specifici proprio di preparazione a concorso ordinario, ma che varrà a questo punto per più classi di concorso, mentre per chimica non sono proprio in grado, quindi non posso aiutarvi. Si getta una moneta in mezzo ad una piscina piena d'acqua, rispetto a come apparirebbe se la piscina fosse vuota, la moneta appare a un osservatore posto sul bordo della piscina, ovviamente la risposta che appare a minore profondità è di maggiori dimensioni. Perché? Per il fenomeno quindi dell'ottica e in particolare della rifrazione. La rifrazione che è la deviazione che subisce un'onda quando quest'ultima passa da un mezzo materiale ad un altro dove si muove con velocità diversa. E quindi che cosa accade? Noi vediamo la moneta grazie alla luce. E quindi la luce è un'onda. L'onda quindi passa dall'aria, quindi la luce è un'onda, e passa dall'aria all'acqua. E i due mezzi hanno densità diversa, l'acqua ha una densità decisamente maggiore. Quindi si creano delle illusioni ottiche. E questa illusione ottica che cosa va a fare? Ci fa sembrare la moneta spostata sopra, quindi a minore profondità, e al tempo stesso di dimensioni maggiori. Bene, al termine di questa domanda, io vi ringrazio e vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata, e spero, insomma, sono curioso di sapere cosa ne pensate di quello che abbiamo affrontato, e un caro saluto da Francesco Samani. Grazie.